Gentili telespettatori, buona giornata. Supermedia, quorum Utrend per Sky TG24. Vediamo che Fratelli d'Italia cresce dello 0,6% al 29%, il PD cresce dello 0,6% al 19,3%, il Movimento 5 Stelle perde lo 0,2 al 15,8%, la Lega perde lo 0,2 all'8,5%, Azione Italia Viva perdono lo 0,1 e sono al 7,6%, Forza Italia perde lo 0,1 e sono al 5,8%, Verdi e Sinistra perdono lo 0,4 e sono al 2,9%, Italexit perde lo 0,1 e al 2,4%, più Europa guadagna lo 0,2 e al 2%, noi moderati 1,5%. Altri partiti 5,2, indecisi più astenuti 42,8%, grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata.